Benvenuti su Nicola la mattina. Entrate nel mondo della tecnologia innovativa con noi. Scopriamo insieme le meraviglie della stampa 3D e dei droni DJI. Troverete recensioni dettagliate, progetti creativi e idee innovative. Godetevi contenuti di qualità e supporto costante. Grazie mille a tutti voi che ci seguite e supportate. I vostri commenti e suggerimenti ci aiutano a crescere e migliorare. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Se i miei disegni vi portano gioia o ispirazione, considera di supportarmi su BuyMeACoffee. Ogni piccola donazione aiuta a sostenere il mio lavoro.